L'Evangelo secondo Giovanni Capitolo 1 Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di Lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. E' venuto in casa Sua, e i Suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. A quelli cioè che credono nel Suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è stata fatta carne, ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la Sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Giovanni gli ha resa testimonianza, ed ha esclamato dicendo, «Era di questo che io dicevo, Colui che viene dietro a me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti, è della Sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia sopra grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, e la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo». Nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliuolo, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. E questa è la testimonianza di Giovanni quando i Giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei Leviti per domandargli, «Tu chi sei?». Egli lo confessò e non lo negò, lo confessò dicendo, «Io non sono il Cristo». Ed essi li domandarono, «Che dunque, sei Elia?». Ed egli rispose, «Non lo sono. Sei tu il profeta?». Ed egli rispose, «No». Essi dunque gli dissero, «Chi sei?», affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato. «Che dici tu di te stesso?». E gli disse, «Io sono la voce di uno che grida nel deserto, addirizzate la via del Signore», come ha detto il profeta Esaia. Ora quelli che erano stati mandati a lui erano dei farisei, e li domandarono, «Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro dicendo, «Io battezzo con acqua, nel mezzo di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dietro a me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari». Queste cose avvennero in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva a lui e disse, «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dicevo, dietro a me viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me. E io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato ad Israele, sono io venuto a battezzare con acqua». E Giovanni rese la sua testimonianza dicendo, «Ho veduto lo Spirito scendere dal cielo a guisa di Colomba e fermarsi su di lui. E io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto, «Colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il figliuolo di Dio». Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli. E avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse, «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro, «Che cercate?». Ed essi gli dissero, «Rabbì», che interpretrato vuol dire maestro, «Dove dimori?». Egli rispose loro, «Venite e vedrete». Essi dunque andarono e videro ove dimorava, e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, il fratello di Simone Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni ed aveva seguito Gesù. Egli per primo trovò il proprio fratello Simone e gli disse, «Abbiamo trovato il Messia», che interpretrato vuol dire Cristo, e lo menò da Gesù. E Gesù, fissato in lui lo sguardo, disse, «Tu sei Simone, il figliuolo di Giovanni. Tu sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse, «Seguimi». Ora Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse, «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge ed i profeti, Gesù figliuolo di Giuseppe da Nazareth». E Natanaele gli disse, «Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth?». Filippo gli rispose, «Vieni a vedere». Gesù vide Natanaele, che gli veniva incontro, e disse di lui, «Ecco un vero israelita in cui non c'è frode». Natanaele gli chiese, «Da che mi conosci?». Gesù gli rispose, «Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io t'ho veduto». Natanaele gli rispose, «Maestro, tu sei il figliuolo di Dio, tu sei il re di Israele». Gesù rispose e gli disse, «Perché t'ho detto che t'avevo visto sotto il fico, tu credi?». Tu vedrai cose maggiore di queste. Poi gli disse, «In verità, in verità vi dico, che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figliuolo dell'uomo». Capitolo 2 Tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato coi suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, «Non hanno più vino». E Gesù le disse, «Che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora avvenuta». Sua madre disse ai servitori, «Fate tutto quello che vi dirà». Ora c'erano qui vi sei pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna due o tre misure. Gesù disse loro, «Empite d'acqua le pile», ed essi le riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, «Ora tingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono, e quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, o regli non sapeva d'onde venisse, ma ben lo sapevano i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, «Ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto largamente il meno buono. Tu invece hai serbato il vino buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea, e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli con sua madre, coi suoi fratelli e i suoi discepoli, e stettero quivi non molti giorni. Ora la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme, e trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi, e i cambiamonete seduti. E fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi, e sparpagliò il denaro dei cambiamonete, e rovesciò le tavole. E a quelli che vendevano i colombi disse, «Portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, «Lo zelo della tua casa mi consuma». I Giudei allora presero a dirgli, «Qual segno ci mostri tu che fai queste cose?» Gesù rispose loro, «Disfate questo Tempio, e in tre giorni lo farò risorgere». Allora i Giudei dissero, «Quarantasei anni è durata la fabbrica di questo Tempio, e tu lo faresti risorgere in tre giorni?» Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo, e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Mentre egli era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti, e perché non aveva bisogno della testimonianza di alcuno sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Capitolo 3 Ora vera fra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse, «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose dicendo, «In verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse, «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?» Gesù rispose, «In verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né d'onde viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito». Nicodemo replicò e gli disse, «Come possono avvenire queste cose?» Gesù gli rispose, «Tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose?» «In verità, in verità io ti dico che noi parliamo di quello che sappiamo e testimoniamo di quello che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti?» «E nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figliuolo dell'uomo che è nel cielo». «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna». «Poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». «Infatti, il Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui». «Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliuolo di Dio». «E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amate le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate, ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le opere sue siano manifestate perché sono fatte in Dio». Dopo queste cose Gesù venne coi Suoi discepoli nelle campagne della Giudea, e qui vi si trattenne con loro e battezzava. Ora anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim perché c'era là molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare, poiché Giovanni non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione fra i discepoli di Giovanni e un giudeo intorno alla purificazione. E vennero a Giovanni e gli dissero, «Maestro, colui che era con te al di là del Giordano e al quale tu rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno a lui». Giovanni rispose dicendo, «L'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui». «Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Questa allegrezza che è la mia è perciò completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca». «Colui che viene dall'alto è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla come essendo della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha veduto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è verace, poiché colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Il padre ama il figliuolo e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui». Capitolo 4 Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano dito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe dette a Giuseppe suo figliuolo. E qui vi era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse, «Dammi da bere», giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. onde la donna samaritana gli disse, «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» Infatti, i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù rispose e le disse, «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice, dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse, «Signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è profondo. Donde hai dunque codesta acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe nostro padre, che ci dette questo pozzo, e ne beve gli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse, «Chiunque beve di questa acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse, «Signore, dammi di codesta acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingerne». Gesù gli disse, «Vai a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose, «Non ho marito». E Gesù, «Hai detto bene non ho marito perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». La donna gli disse, «Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse, «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvazione viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità». La donna gli disse, «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ha da venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse, «Io che ti parlo sono d'esso». In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, ma nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente, «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarebbe egli il Cristo?» La gente uscì dalla città e veniva a lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo, «Maestro, mangia!» Ma egli disse loro, «Io ho un cibo da mangiare che voi non sapete». Perciò i discepoli si dicevano l'uno all'altro, «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare?» Gesù disse loro, «Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua». Non dite voi che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco io vi dico, levate gli occhi e mirate le campagne come già sono bianche da mietere. Il mietitore riceve premio e raccoglie frutto per la vita eterna affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino assieme. Poiché in questo è vero il detto «L'uno semina e l'altro miete, io vi ho mandati a mietere quello intorno a cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica». Ora molti dei samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna «Egli mi ha detto tutte le cose che ho fatte». Quando dunque i samaritani furono venuti a lui lo pregarono di trattenersi da loro ed egli si trattenne quivi due giorni e più assai credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo perché abbiamo dito da noi e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». Passati quei due giorni egli partì di là per andare in Galilea poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua propria patria. Quando dunque fu venuto in Galilea fu accolto dai Galilei perché avevano vedute tutte le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme alla festa poiché anche essi erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino. Ed era un certo ufficiale reale il cui figliuolo era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea andò a lui e lo pregò che scendesse e guarisse il suo figliuolo perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse se non vedete segni e miracoli voi non credete. L'ufficiale reale gli disse Signore scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli disse va il tuo figliuolo vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò e come già stava scendendo i suoi servitori gli vennero incontro e gli dissero il tuo figliuolo vive. Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a stare meglio ed essi gli risposero ieri all'ora settima la febbre lo lasciò. Così il padre conobbe che ciò era avvenuto nell'ora che Gesù gli aveva detto il tuo figliuolo vive e credette lui con tutta la sua casa. Questo secondo miracolo fece di nuovo Gesù tornando dalla Giudea in Galilea. Capitolo 5 Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme presso la porta delle pecore ve una vasca chiamata in ebraico Betesda che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un grande numero di infermi di ciechi di zoppi di paralitici i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. E Quivi era un uomo che da trentotto anni era infermo. Gesù vedutolo che giaceva e sapendo che già da grande tempo stava così gli disse vuoi essere risanato? L'infermo gli rispose signore io non ho alcuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse levati prendi il tuo lettuccio e cammina e in quell' istante quell'uomo fu risanato e preso il suo lettuccio si mise a camminare ora quel giorno era un sabato perciò i giudei dissero all'uomo guarito è sabato e non ti è lecito portare il tuo lettuccio ma egli rispose loro è colui che mi ha guarito che mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina essi gli domandarono chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse perché Gesù era scomparso essendovi in quel luogo molta gente di poi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse ecco tu sei guarito non peccare più che non ti accada di peggio quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che Gesù era quello che l'aveva risanato e per questo i di ucciderlo perché faceva quelle cose di sabato Gesù rispose loro il padre mio opera fino ad ora ed anche io opero perciò dunque i giudei più che mai cercavano di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio Gesù quindi rispose e disse loro in verità in verità io vi dico che il figliuolo non può da se stesso fare cosa alcuna se non la vede fare dal padre poiché le cose che il padre fa anche il figliuolo le fa similmente poiché il padre ama il figliuolo e gli mostra tutto quello che egli fa e gli mostrerà delle opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati difatti come il e li vivifica così anche il figliuolo vivifica chi vuole oltre a ciò il padre non giudica alcuno ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo affinché tutti onorino il figliuolo come onorano il padre chi non onora il figliuolo non onora il padre che l'ha mandato in verità in verità io vi dico chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita in verità in verità io vi dico l'ora viene anzi è già venuta che i morti udranno la voce del figliuolo di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno poiché come il padre ha vita in se stesso così ha dato anche al perché è il figliuolo dell'uomo non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio io non posso fare nulla da me stesso come odo giudico e il mio giudizio è giusto poiché cerco non la mia propria volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato se io rendo testimonianza di me stesso la mia testimonianza non è verace ve un altro che rende testimonianza di me e io so che la testimonianza che gli rende di me è verace voi avete mandato da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità io però la testimonianza non la prendo dall'uomo ma dico questo affinché voi siate salvati egli era la lampada ardente e splendente e voi avete voluto per breve ora godere alla sua luce ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni perché le opere che il padre mi ha dato a compiere quelle opere stesse che io fo testimoniano di me che il padre mi ha mandato e il padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me la sua voce voi non l'avete mai udita il suo sembiante non l'avete mai veduto e la sua parola non l'avete dimorante in voi perché non credete in colui che egli ha mandato voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo di esse vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me eppure non volete venire a me per avere la vita io non prendo gloria dagli uomini ma vi conosco che non avete l'amore di dio in voi io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi ricevete se un altro verrà nel suo proprio nome voi lo riceverete come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da dio solo non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al padre ve chi vi accusa ed è Mosè nel quale avete riposta la vostra speranza perché se credeste a Mosè credereste anche a me perché egli ha scritto di me ma se non credete agli scritti di lui come crederete alla mia parola capitolo 6 dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea che è il mare di Tiberiade e una grande moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi ma Gesù salì sul monte e qui vi si pose a sedere con i suoi discepoli ora la pasqua la festa dei giudei era vicina Gesù dunque alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva a lui disse a Filippo dove compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare diceva così per provarlo perché sapeva bene quello che stava per fare Filippo gli rispose duecento denari di pane non bastano perché ciascuno di loro n'abbia un pezzetto uno dei suoi discepoli Andrea fratello di Simon Pietro gli disse v'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci ma che cosa sono per tanta gente Gesù disse fateli sedere ora avvera molta erba in quel luogo la gente dunque si sedette ed era circa cinquemila uomini Gesù quindi prese i pani e dopo avere rese grazie li distribuì alla gente seduta lo stesso fece dei pesci quanto volevano e quando furono saziati disse ai suoi discepoli raccogliete i pezzi avanzati che nulla se ne perda essi quindi li raccolsero ed empirono dodici ceste di pezzi che di quei cinque pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato la gente dunque avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto disse questi è certo il profeta che ha da venire al mondo Gesù quindi sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re si ritirò di nuovo sul monte tutto solo e quando fu sera i suoi discepoli scesero al mare e montati in una barca si dirigevano all'altra riva verso capernaum già era buio e Gesù non era ancora venuto a loro e il mare era agitato perché tirava un grande vento ora come ebbero vogato circa venticinque o trenta stadi videro Gesù che camminava sul mare e si accostava alla barca ed ebbero paura ma egli disse loro sono io non temete essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra là dove erano diretti la folla che era rimasta all'altra riva del mare aveva notato che non vera qui vi altro che una barca sola e che Gesù non vera entrato coi suoi discepoli ma che i discepoli erano partiti soli ora altre barche erano giunte da tiberiade presso al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il signore aveva reso grazie la folla dunque quando l'indovani ebbe veduto che Gesù non era qui vi ne che verrano i suoi discepoli montò in quelle barche e venne a capernaum in cerca di Gesù e trovatolo di là dal mare gli dissero maestro quando sei giunto qua Gesù rispose loro e disse in verità in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna il quale il figliuolo dell'uomo vi darà poiché su lui il padre cioè dio ha apposto il proprio suggello essi dunque gli dissero che dobbiamo fare per operare le opere di dio Gesù rispose e disse loro questa è l'opera di dio che crediate in colui che egli ha mandato allora essi gli dissero qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo che operi i nostri padri mangiarono una manna nel deserto come scritto e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo e Gesù disse loro in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo ma il padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo poiché il pane di dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo essi quindi gli dissero signore dacci sempre di codesto pane Gesù disse loro io sono il pane della vita chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non siete ma io ve l'ho detto voi m'avete veduto eppure non credete tutto quello che il padre mi dà verrà a me e colui che viene a me io non lo cacerò fuori perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato ma che lo risusciti nell'ultimo giorno poiché questa è la volontà del padre mio che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno i giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto io sono il pane che è disceso dal cielo e dicevano non è costui Gesù il figliuolo di Giuseppe del quale conosciamo il padre e la madre come mai dice egli ora io sono disceso dal cielo Gesù rispose e disse loro non mormorate fra voi nessuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri e io lo risusciterò nell'ultimo giorno è scritto nei profeti e saranno tutti ammaestrati da Dio ogni uomo che ha udito il padre ed ha imparato da lui viene a me non che alcuno abbia veduto il padre se non colui che è da Dio egli ha veduto il padre in verità in verità io vi dico chi crede ha vita eterna io sono il pane della vita i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia io sono il pane vivente che è disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo i giudei dunque disputavano fra loro dicendo come mai può costui darci a mangiare la sua carne perciò Gesù disse loro in verità in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliuolo dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete la vita in voi chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui come il vivente padre mi ha mandato e io vivo a cagione del padre così chi mi mangia vivrà anche egli a cagione mia questo è il pane che è disceso dal cielo non quale era quello che i padri mangiarono e morirono chi mangia di questo pane vivrà in eterno queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di capernaum onde molti dei suoi discepoli udite che le ebbero dissero questo parlare è duro chi lo può ascoltare ma Gesù conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò disse loro questo vi scandalizza e che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima è lo spirito quello che vivifica la carne non giova nulla le parole che vi ho dette sono spirito e vita ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono poiché Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe e diceva per questo v'ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal padre da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui perciò Gesù disse ai dodici non vede volete andare anche voi e Simone Pietro gli rispose signore a chi ce ne andremo noi tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il santo di Dio Gesù rispose loro non ho io scelto voi dodici eppure uno di voi è un diavolo ora egli parlava di Giuda figliuolo di Simone Iscariota perché era lui uno di quei dodici che lo doveva tradire capitolo 7 dopo queste cose Gesù andava attorno per la Galilea non voleva andare attorno per la Giudea perché i Giudei cercavano di ucciderlo ora la festa dei Giudei detta delle capanne era vicina perciò i suoi fratelli gli dissero partiti di qua e vattene in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai perché nessuno fa cosa alcuna in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente se tu fai con queste cose palesati al mondo perché neppure i suoi fratelli credevano in lui Gesù quindi disse loro il mio tempo non è ancora venuto il vostro tempo invece è sempre pronto il mondo non può odiare voi ma odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvage salite voi alla festa io non salgo ancora a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto e dette loro queste cose rimase in Galilea quando poi i suoi fratelli furono saliti alla festa allora vi salì anche lui non palesemente ma come di nascosto i giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano dov'è egli e vera fra le turbe grande mormorio intorno a lui gli uni dicevano è un uomo da bene altri dicevano no anzi travia la moltitudine nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei ora quando si era già a metà della festa gesù salì al tempio e si mise a insegnare onde i giudei si meravigliavano e dicevano come mai si intende costui di lettere senza avere fatto studi e gesù rispose loro e disse la mia dottrina non è mia ma di colui che mi ha mandato se uno vuol fare la volontà di lui conoscerà se questa dottrina è da dio o se io parlo di mio chi parla di suo cerca la propria gloria ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato egli è verace e non v'è ingiustizia in lui Mosè non va egli data la legge e pure nessuno di voi mette ad effetto la legge perché cercate di uccidermi la moltitudine rispose tu hai un demonio chi cerca di ucciderti Gesù rispose disse loro un'opera sola ho fatto e tutti venem meravigliate Mosè va dato la circoncisione non che venga da Mosè ma viene dai padri e voi circoncidiete l'uomo in giorno di sabato se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata vi adirate voi contro a me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero non giudicate secondo l'apparenza ma giudicate con giusto giudizio dicevano dunque alcuni di Gerusalemme non è questi colui che cercano di uccidere eppure ecco egli parla liberamente e non gli dicono nulla avrebbero mai i capi riconosciuto per davvero che egli è il Cristo eppure costui sappiamo donde sia ma quando il Cristo verrà nessuno saprà donde egli sia Gesù dunque insegnando nel tempio esclamò voi e mi conoscete e sapete di dove sono però io non sono venuto da me ma colui che mi ha mandato è verità e voi non lo conoscete io lo conosco perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato cercavano perciò di pigliarlo ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora venuta ma molti della folla credettero in lui e dicevano quando il cristo sarà venuto farà egli più miracoli che questi non abbia fatto i farisei udirono la moltitudine mormorare queste cose di lui e i capi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie a pigliarlo perciò Gesù disse loro io sono ancora con voi per poco tempo poi me ne vo a colui che mi ha mandato voi mi cercherete e non mi troverete e dove io sarò voi non potete venire perciò i giudei dissero fra loro dove dunque andrà egli che noi non lo troveremo andrà forse a quelli che sono dispersi fra i greci ad amaestrare i greci che significa questo suo dire voi mi cercherete e non mi troverete e dove io sarò voi non potete venire ora nell'ultimo giorno il grande giorno della festa Gesù stando in piedi esclamò se alcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me come ha detto la scrittura fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno ora disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in lui poiché lo spirito non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato una parte dunque della moltitudine udite quelle parole diceva questi è davvero il profeta altri dicevano questi è il Cristo altri invece dicevano ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo la scrittura non ha e la detto che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Bethlehem il villaggio dove stava Davide vi fu dunque dissenso fra la moltitudine a motivo di lui e alcuni di loro lo volevano pigliare ma nessuno gli mise le mani addosso le guardie dunque tornarono dai capi sacerdoti e dai farisei i quali dissero loro perché non l'avete condotto le guardie risposero nessun uomo parlò mai come quest'uomo onde i farisei replicarono loro siete stati sedotti anche voi a qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui ma questa prebe che non conosce la legge è maledetta Nicodemo uno di loro quello che prima era venuto a lui disse loro la nostra legge giudica ella un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto essi gli risposero sei anche tu di Galilea investiga e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta capitolo 8 e ognuno se ne andò a casa sua ma Gesù andò al monte degli olivi e sul fare del giorno tornò nel tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli postosi a sedere li ammaestrava allora gli scribi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio e fatta la stare in mezzo gli dissero maestro questa donna è stata colta in flagrante adulterio ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali e tu che ne dici ora dicevano questo per metterlo alla prova per poterlo accusare ma Gesù chinatosi si mise a scrivere col dito in terra e siccome continuavano a interrogarlo egli rizzatosi disse loro chi di voi è senza peccato scagli il primo la pietra contro di lei e chinatosi di nuovo scriveva in terra ed essi udito ciò e ripresi dalla loro coscienza si misero ad uscire ad uno ad uno cominciando dai più vecchi fino agli ultimi e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo e Gesù rizzatosi e non vedendo altri che la donna le disse donna dove sono quei tuoi accusatori nessuno ti ha condannata ed ella rispose nessuno signore e Gesù le disse neppure io ti condanno va e non peccare più ora Gesù parlò loro di nuovo dicendo io sono la luce del mondo chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita allora i farisei gli dissero tu testimoni di te stesso la tua testimonianza non è verace Gesù rispose e disse loro quando anche io testimoni di me stesso la mia testimonianza è verace perché so donde sono venuto e dove vado ma voi non sapete donde io vengo né dove vado voi giudicate secondo la carne io non giudico alcuno e anche se giudico il mio giudizio è verace perché non solo solo ma sono io col padre che mi ha mandato d'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace ora sono io a testimoniare di me stesso e il padre che mi ha mandato testimonia pure di me onde essi gli dissero dove è tuo padre Gesù rispose voi non conoscete né me né il padre mio se conosceste me conoscereste anche il padre mio queste parole disse Gesù nel tesoro insegnando nel tempio e nessuno lo prese perché l'ora sua non era ancora venuta e gli dunque disse loro di nuovo io me ne vado e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato dove vado io voi non potete venire perciò i giudei dicevano si ucciderà egli forse perché dice dove vado io voi non potete venire ed egli diceva loro voi siete di qua giù io sono di lassù voi siete di questo mondo io non sono di questo mondo perciò ho detto che morrete nei vostri peccati perché se non credete che sono io il Cristo morrete nei vostri peccati allora gli domandarono chi sei tu gesù rispose loro sono per l'appunto quello che vo dicendovi ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro ma colui che mi ha mandato è verace e le cose che ho dite da lui le dico al mondo essi non capirono che gli parlava loro del padre gesù dunque disse loro quando avrete innalzato il figliuolo dell'uomo allora conoscerete che sono io il Cristo e che non fa nulla da me ma dico queste cose secondo che il padre mi ha insegnato e colui che mi ha mandato è con me egli non mi ha lasciato solo perché fa del continuo le cose che gli piacciono mentre egli parlava così molti credettero in lui gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi essi gli risposero noi siamo progenie di abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno come puoi tu dire voi diverrete liberi gesù rispose loro in verità ma in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa il figliuolo vi dimora per sempre se dunque il figliuolo vi farà liberi sarete veramente liberi io so che siete progenie di abramo ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi io dico quello che ho veduto presso il padre mio e voi pure fate le cose che avete udito dal padre vostro essi risposero e gli dissero il padre nostro è abramo gesù disse loro se foste figliuoli di abramo fareste le opere di abramo ma ora cercate di uccidere me uomo che vodetta la verità che udita da dio così non fece abramo voi fate le opere del padre vostro essi gli dissero noi non siamo nati di fornicazione abbiamo un solo padre il dio gesù disse loro se dio fosse vostro padre amereste me perché io sono proceduto e vengo da dio perché io non sono venuto da me ma è lui che mi ha mandato perché non comprendete il mio parlare perché non potete dare ascolto alla mia parola voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna e a me perché dico la verità voi non credete chi di voi mi convince di peccato se vi dico la verità perché non mi credete chi è da dio ascolta le parole di dio per questo voi non le ascoltate perché non siete da dio i giudei risposero e gli dissero non diciamo noi bene che sei un samaritano e che hai un demonio Gesù rispose io non ho mio e voi mi disonorate ma io non cerco la mia gloria ve uno che la cerca e che giudica in verità in verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte i giudei gli dissero ora vediamo bene che tu hai un demonio abramo e i profeti sono morti e tu dici se uno osserva la mia parola anche i profeti sono morti chi pretendi di essere gesù rispose se io glorifico me stesso la mia gloria è nulla chi mi glorifica è il padre mio che voi dite essere vostro dio e non l'avete conosciuto ma io lo conosco e se dicessi di non conoscerlo sarei bugiardo come voi ma io lo conosco e osservo la sua parola abramo vostro padre speranza di vedere il mio giorno e l'ha veduto e se ne era allegrato i giudei gli dissero tu non hai ancora cinquant'anni e hai veduto abramo gesù disse loro in verità in verità vi dico prima che abramo fosse nato io sono allora essi presero delle pietre per tirar le ma gesù si nascose ed uscì dal tempio capitolo 9 e passando vide un uomo che era cieco fino dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo maestro chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco gesù rispose né lui peccò né i suoi genitori ma è così affinché le opere di dio siano manifestate in lui bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno la notte viene in cui nessuno può operare mentre sono nel mondo io sono la luce del mondo detto questo sputò in terra fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse va lavati nella vasca di siloe che significa mandato e gli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva perciò i vicini e quelli che per l'innanzi l'avevano veduto perché era mendicante dicevano non egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina gli uni dicevano è lui altri dicevano no ma li somiglia ma egli diceva sono io allora essi gli domandarono com'è che ti sono stati aperti gli occhi e gli rispose quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango me ne spalmò gli occhi e mi disse vattene a siloe e lavati io quindi sono andato e mi sono lavato e ho recuperato la vista ed essi gli dissero dov'è costui e gli rispose non so menarono ai farisei colui che era stato cieco ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi i farisei dunque gli domandarono di nuovo anche essi come gli avesse recuperato la vista ed egli disse loro egli mi ha messo del fango sugli occhi mi sono lavato e ci vedo perciò alcuni dei farisei dicevano quest'uomo non è da dio perché non osserva il sabato ma altri dicevano come può un uomo peccatore fare tali miracoli e vera disaccordo fra loro essi dunque dissero di nuovo al cieco e tu che dici di lui dell'averti aperto gli occhi egli rispose è un profeta i giudei dunque non credettero di lui che fosse stato cieco e avesse recuperata la vista finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così è questo il vostro figliuolo che dite essere nato cieco come dunque che ora ci vede i suoi genitori risposero sappiamo che questo è nostro figliuolo e che è nato cieco ma come ora ci veda non sappiamo né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi domandatelo a lui egli è d'età parlerà lui di sé questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei perché i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga per questo dissero i suoi genitori egli è d'età domandatelo a lui essi dunque chiamarono per la seconda volta all'uomo che era stato cieco e gli dissero da gloria a Dio noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore egli rispose se egli sia un peccatore non so una cosa so che ero cieco e ora ci vedo essi allora gli dissero che ti fece egli come ti aprì gli occhi egli rispose loro ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato perché volete udirlo di nuovo volete forse anche voi diventare suoi discepoli essi lo ingiuriarono e dissero sei tu discepolo di costui ma noi siamo discepoli di Mosè noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato ma quant'è a costui non sappiamo di dove sia quell'uomo rispose disse loro questo poi è strano che voi non sappiate di dove sia eppure mi ha aperto gli occhi si sa che Dio non esaudisce i peccatori ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà quello egli esaudisce da che mondo è mondo non si da Dio non potrebbe fare nulla essi risposero e gli dissero tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi e lo cacciarono fuori Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovato lo gli disse credi tu nel figliuolo di Dio colui rispose e chi è egli signore perché io creda in lui Gesù gli disse tu l'hai già veduto e quelli che parla con te è lui ed egli disse signore io credo e gli si prostrò dinnanzi e Gesù disse io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi e quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero siamo ciechi anche noi Gesù rispose loro se foste ciechi non avreste alcun peccato ma siccome dite noi vediamo il vostro peccato rimane capitolo 10 in verità in verità io vi dico che chi non entra per la porta dell'ovire delle pecore ma vi sale da un'altra parte esso è un ladro e un brigante ma colui che entra per la porta è pastore delle pecore a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le mena fuori quando ha messo fuori tutte le sue pecore va innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce ma un estraneo non lo seguiranno anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei questa similitudine disse loro gesù ma essi non capirono di che cosa parlasse loro onde gesù di nuovo disse loro in verità in verità vi dico io sono la porta delle pecore tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti ma le pecore non li hanno ascoltati io sono la porta se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura il ladro non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere io sono venuto perché abbian la vita e l'abbiano ad esuberanza io sono il buon pastore il buon pastore mette la sua vita per le pecore il mercenario che non è pastore a cui non appartengono le pecore vede venire il lupo abbandona le pecore e si dà la fuga e il lupo le rapisce e disperde il mercenario si dà la fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie mi conoscono come il padre mi conosce e io conosco il padre e metto la mia vita per le pecore ho ancora delle altre pecore che non sono di questo ovile anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge un solo pastore per questo mi ama il padre perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi nessuno me la toglie ma la depongo da me io ho podestà di deporla e ho podestà di ripigliarla quest'ordine ho ricevuto dal padre mio nacque di nuovo un dissenso fra i giudei a motivo di queste parole e molti di loro dicevano egli ha un demonio ed è fuori di sé perché lo ascoltate altri dicevano queste non sono parole di un indemoniato può un demonio aprire gli occhi ai ciechi in quel tempo ebbe luogo in gerusalemme la festa della dedicazione era d'inverno e gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di salomone i giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero fino a quando terrai sospeso l'animo nostro se tu sei il cristo diccelo apertamente gesù rispose loro ve l'ho detto e non lo credete le opere che fone nome del padre mio sono quelle che testimoniano di me ma voi non credete perché non siete delle mie pecore le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al padre io e il padre siamo uno i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo gesù disse loro molte buone opere voi mostrate da parte del padre mio per quale di queste opere mi lapidate voi i giudei gli risposero non ti lapidiamo per una buona opera ma per bestemmia e perché tu che sei uomo ti fai dio gesù rispose loro non egli scritto nella vostra legge io ho detto voi siete dei se chiama dei coloro ai quali la parola di dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata come mai dite voi a colui che il padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia perché ho detto sono figliuolo di dio se non faccio le opere del padre mio non mi credete ma se le faccio anche se non credete a me credete alle opere affinché sappiate e riconosciate che il padre è in me e che io sono nel padre essi cercavano di nuovo di pigliarlo ma egli fuggì loro dalle mani e Gesù se ne andò di nuovo al di là del Giordano nel luogo dove Giovanni da principio stava battezzando e qui vi dimorò e molti vennero a lui e dicevano Giovanni è vero non fece alcun miracolo ma tutto quello che Giovanni disse di questo uomo era vero e qui vi molti credettero in lui capitolo undici ora vera un ammalato un certo lazzaro di Betania del villaggio di Maria e di Marta sua sorella Maria era quella che unse il Signore d'olio odorifero e gli asciugò i piedi con i suoi capelli e lazzaro suo fratello era malato le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù Signore ecco colui che tu ami è malato Gesù udito ciò disse questa malattia non è a morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figliuolo di Dio sia glorificato ora Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro come dunque ebbe udito che egli era malato si trattenne ancora due giorni nel luogo dove era poi dopo disse ai discepoli torniamo in Giudea i discepoli gli dissero maestro i giudei cercavano orora di lapidarti e tu vuoi tornare là Gesù rispose non vi sono dodici ore nel giorno se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui così parlò e poi disse loro il nostro amico Lazzaro si è addormentato ma io vado a svegliarlo perciò i discepoli gli dissero signore se egli dorme sarà salvo ora Gesù aveva parlato della morte di lui ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno allora Gesù disse loro apertamente Lazzaro è morto e per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate ma ora andiamo a lui allora Toma detto Didimo disse ai suoi condiscepoli andiamo anche noi per morire con lui Gesù dunque arrivato trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro ora Betania non distava da Gerusalemme che circa quindici stadi e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva gli andò incontro ma Maria stava seduta in casa Marta dunque disse a Gesù signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio Dio te lo darà Gesù le disse tuo fratello risusciterà Marta gli disse lo so che risusciterà nella resurrezione nell'ultimo giorno Gesù le disse io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muoia vivrà e chiunque vive e crede in me non morrà mai credi tu questo e la li disse sì signore io credo che tu sei il Cristo il figliuolo di Dio che doveva venire nel mondo e detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria sua sorella dicendole il maestro è qui e ti chiama ed l'audito questo si alzò in fretta e venne a lui ora Gesù non era ancora entrato nel villaggio ma era sempre nel luogo dove Marta l'aveva incontrato quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere appena Maria fu giunta dove era Gesù e lo ebbe veduto gli si gettò ai piedi dicendogli signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto e quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere anche essi fremene lo spirito si conturbò e disse dove l'avete posto essi gli dissero signore vieni a vedere Gesù pianse onde i giudei dicevano guarda come l'amava ma alcuni di loro dicevano non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse Gesù dunque fremendo di nuovo in se stesso venne al sepolcro era una grotta e una pietra era posta all'apertura Gesù disse togliete via la pietra marta la sorella del morto gli disse signore egli puzza già perché siamo al quarto giorno Gesù le disse non to io detto che se credi tu vedrai la gloria di dio tolsero dunque la pietra e Gesù alzati gli occhi al cielo disse padre ti ringrazio che mi hai esaudito io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda affinché credano che tu mi hai mandato e detto questo gridò con grande voce lazaro vieni fuori e il morto uscì avendo i piedi e le mani legati da fasce e il viso coperto d'un asciugatoio Gesù disse loro scioglietelo e lasciatelo andare perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù credettero in lui ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto i capi sacerdoti quindi e i farisei radunarono il sinedrio e dicevano che facciamo perché quest'uomo fa molti miracoli se lo lasciamo fare tutti crederanno in lui e i romani verranno e ci distruggeranno e città e nazione e uno di loro caiafa che era sommo sacerdote di quell'anno disse loro voi non capite nulla e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione ora egli non disse questo di suo ma siccome era sommo sacerdote di quell'anno profetò che Gesù doveva morire per la nazione e non soltanto per la nazione ma anche per raccogliere in uno i figliuoli di dio dispersi da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire Gesù quindi non andava più apertamente fra i giudei ma si ritirò di là nella contrada vicina al deserto in una città detta Efraim e qui si trattenne con i suoi discepoli ora la pasqua dei giudei era vicina e molti di quella contrada salirono a Gerusalemme prima della cercavano dunque Gesù e stando nel tempio dicevano fra loro che ve ne pare che non abbia venire alla festa ora i capi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se alcuno sapesse dove egli era ne facesse denunzia perché potessero pigliarlo capitolo 12 gesù dunque sei giorni avanti la pasqua venne a betania dov'era lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti e qui vi gli fecero una scena marta serviva e lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui allora maria presa una libra d'olio odorifero di nardo schietto di grande prezzo unse i piedi di gesù e glieli asciugò con i suoi capelli e la casa fu ripiena del profumo dell'olio ma giuda iscariot uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo disse perché non si è venduto quest'olio per trecento denari e non si sono dati ai poveri diceva così non perché si curasse dei poveri ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quel che vi si metteva dentro gesù dunque disse lasciala fare ella l'ho asserbato per il giorno della mia sepoltura poiché i poveri li avete sempre con voi ma me non avete sempre la grande folla dei giudei seppe dunque che egli era quivi e vennero non solo a motivo di gesù ma anche per vedere lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti ma i capi sacerdoti deliberarono di far morire anche lazzaro perché per cagione sua molti dei giudei andavano e credevano in gesù il giorno seguente la grande folla che era venuta alla festa udito che gesù veniva a gerusalemme prese dei rami di palme e uscìa di incontrarlo e si mise a gridare osanna benedetto colui che viene nel nome del signore il re di israele e gesù trovato un asinello rimontò su secondo che scritto non temere o figliuola di sion ecco il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina ora i suoi discepoli non intesero dapprima queste cose ma quando gesù fu glorificato allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte la folla dunque che era con lui quando aveva chiamato lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva ressuscitato dai morti ne rendeva testimonianza e per questo la folla gli andò incontro perché avevano dito che egli aveva fatto quel miracolo onde i farisei dicevano fra loro vedete che non guadagnate nulla ecco il mondo gli corre dietro ora fra quelli che salivano alla festa per adorare verano certi greci questi dunque accostatisi a filippo che era di betsaida di galilea gli fecero questa richiesta signore vorremmo vedere gesù filippo lo venne a dire ad andrea e andrea e filippo vennero a dirlo a gesù e gesù rispose loro dicendo l'ora è venuta che il figliuolo dell'uomo ha da essere glorificato in verità in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore rimane solo ma se muore produce molto frutto chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna se uno mi serve mi segua e laddove sono io qui vi sarà anche il mio servitore se uno mi serve il padre l'onorerà ora è turbata l'anima mia e che dirò padre salvami da questa ora ma è per questo che sono venuto incontro a questa ora padre glorifica il tuo nome allora venne una voce dal cielo e l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo onde la moltitudine che era qui vi presente e aveva udito diceva che era stato un tuono altri dicevano un angelo gli ha parlato Gesù rispose disse questa voce non si è fatta per me ma per voi ora avviene il giudizio di questo mondo ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo e io quando sarò innalzato dalla terra trarrò tutti a me così diceva per significare di quale morte doveva morire la moltitudine quindi gli rispose noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno come dunque dici tu che bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato chi è questo figliuolo dell'uomo Gesù dunque disse loro ancora per un poco la luce è fra voi camminate mentre avete la luce affinché non vi colgano le tenebre chi cammina nelle tenebre non sa dove va mentre avete la luce credete nella luce affinché diventiate figliuoli di luce queste cose disse Gesù poi se ne andò e si nascose da loro e sebbene avesse fatto tanti miracoli loro presenza pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia signore chi ha creduto a quello che c'è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li sani queste cose disse Isaia perché vide la gloria di non 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 credo ma a cagione dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio ma Gesù ad alta voce aveva detto chi crede in me crede non in me ma in colui che mi ha mandato e chi vede me vede colui che mi ha mandato io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre e se uno ode le mie parole e non le osserva io non lo giudico perché io non sono venuto a giudicare il mondo ma a salvare il mondo chi mi le spinge e non accetta le mie parole a chi lo giudica la parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno perché io non ho parlato di mio ma il padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che debbo dire e di che debbo ragionare e io so che il suo comandamento è vita eterna le cose dunque che dico così le dico come il padre me le ha dette capitolo 13 ora avanti la festa di Pasqua Gesù sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine e durante la cena quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariot figliuolo di Simone di tradirlo Gesù sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava si levò da tavola depose le sue vesti e preso un asciugatoio se ne cinse poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto venne dunque a Simon Pietro il quale gli disse tu signore lavare i piedi a me Gesù gli rispose tu non sai ora quello che io fo ma lo capirai dopo Pietro gli disse tu non mi laverai mai i piedi Gesù gli rispose se non ti lavo non hai meco parte alcuna e Simone Pietro signore non soltanto i piedi ma anche le mani e il capo Gesù gli disse chi è lavato tutto non ha bisogno che d'aver lavati i piedi è netto tutto quanto e voi siete netti ma non tutti perché sapeva chi era colui che lo tradirebbe per questo disse non tutti siete netti come dunque ebbe loro lavati i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti si mise di nuovo a tavola e disse loro capite quello che voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono se dunque io che sono il signore e il maestro v'ho lavato i piedi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri poiché io v'ho dato un esempio affinché anche voi facciate come v'ho fatto io in verità in verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo signore né il messo è maggiore di colui che l'ha mandato se sapete queste cose siete beati se le fate io non parlo di voi tutti io so quelli che ho scelto ma perché sia adempita la scrittura colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno fino da ora ve lo dico prima che accada affinché e quando sia accaduto voi crediate che sono io il cristo in verità in verità vi dico chi riceve colui che io avrò mandato riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato dette queste cose Gesù fu turbato nello spirito e così apertamente si espresse in verità in verità vi dico che uno di voi mi tradirà i discepoli si guardavano l'un l'altro stando in dubbio di chi parlasse ora a tavola inclinato sul seno di Gesù stava uno dei discepoli quello che Gesù amava simon pietro quindi gli fece cenno e gli disse di chi è quello del quale parla ed egli chinatosi così sul petto di Gesù gli domandò signore chi è Gesù rispose è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto e intinto un boccone lo prese e lo diede a Giuda figlio di Simone Iscariota e allora dopo il boccone satana entrò in lui per cui Gesù gli disse quello che fai fallo presto ma nessuno dei commensali intese perché gli aveva detto così difatti alcuni pensavano siccome Giuda teneva la borsa che Gesù gli avesse detto compra quello che ci bisogna per la festa ovvero che desse qualcosa ai poveri egli dunque preso il boccone uscì subito ed era notte quando egli fu uscito Gesù disse ora il figliuolo dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in Lui se Dio è glorificato in Lui Dio lo glorificherà anche in se stesso e presto lo glorificherà figlioletti è per poco che sono ancora con voi voi mi cercherete e come ho detto ai giudei dove voi io voi non potete venire così lo dico ora a voi io vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati anche voi amatevi gli uni gli altri da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri Timone Pietro gli domandò signore dove vai Gesù rispose dove io vado non puoi per ora seguirmi ma mi seguirai più tardi Pietro gli disse signore perché non posso seguirti ora metterò la mia vita per te Gesù gli rispose metterai la tua vita per me in verità in verità ti dico che il gallo non canterà che già tu non m'abbia rinegato tre volte capitolo 14 il vostro cuore non sia turbato abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me nella casa del padre mio ci sono molte dimore se no ve l'avrei detto io vo a prepararvi un luogo e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi e del dove io vo sapete anche la via Toma gli disse signore non sappiamo dove vai come possiamo sapere la via Gesù gli disse io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me se m'aveste conosciuto avreste conosciuto anche mio padre e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto Filippo gli disse signore mostraci il padre e ci basta Gesù gli disse da tanto tempo sono con voi e tu non mai conosciuto Filippo chi ha veduto me ha veduto il padre come mai dici tu mostraci il padre non credi tu che io sono nel padre e che il padre è in me le parole che io vi dico non le dico di mio ma il padre che dimora in me fa le opere sue credetemi che io sono nel padre e che il padre è in me se no credete a cagione di quelle opere stesse in verità in verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che fò io e ne farà di maggiori perché io me ne vo al padre e quello che chiederete purificato nel figliuolo se chiederete qualche cosa nel mio nome io la farò se voi mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi non vi lascerò orfani tornerò a voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete in quel giorno conoscerete che io sono nel padre mio e voi in me e io in voi chi ha i miei comandamenti e li osserva quello mi ama e chi mi ama sarà amato dal padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui giuda non l'iscariota gli domandò signore come mai ti manifesterai a noi e non al mondo gesù rispose e gli disse se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi udite non è mia ma è del padre che mi ha mandato queste cose ho detto stando ancora con voi ma il consolatore lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che ho detto io vi lascio pace vi do la mia pace io non vi do come il mondo da il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti avete udito che v'ho detto io me ne vo e torno a voi se voi mi amaste vi rallegrereste che io vo al padre perché il padre è maggiore di me e ora ve l'ho detto prima che avvenga affinché quando sarà avvenuto crediate io non parerò più molto con voi perché viene il principe di questo mondo ed esso non ha nulla in me ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il padre e opero come il padre mi ha ordinato levatevi andiamo via di qui capitolo 15 io sono la vera vite e il padre mio è il vigna uolo ogni tralcio che in me non dà frutto egli lo toglie via ed ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata dimorate in me e io dimorerò in voi come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite così neppure voi se non dimorate in me io sono la vite voi siete i tralci colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca codesti tralci si raccolgono si gettano nel fuoco e si bruciano se dimorate in me le mie parole dimorano in voi domandate quello che volete e vi sarà fatto in questo è glorificato il padre mio che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli come il padre mi ha amato così anche io ho amato voi dimorate nel mio amore se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e dimoro nel suo amore queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quel che fa il suo signore ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che odite dal padre mio non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi e voi costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente affinché tutto quello che chiederete al padre nel mio nome egli ve lo dia questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri se il mondo vi odia sapete bene che prima di voi ha odiato me se foste del mondo il mondo amerebbe quello che è suo ma perché non siete del mondo ma io vi ho scelti di mezzo al mondo perciò vi odia il mondo ricordatevi della parola che vi ho detta il servitore non è da più del suo signore se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi se hanno osservato la mia parola osserveranno anche la vostra ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome perché non conoscono colui che mi ha mandato se io non fossi venuto e non avessi loro parlato non avrebbero colpa ma ora non hanno scusa del loro peccato chi odia me odia anche il padre mio se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatte mai non avrebbero colpa ma ora le hanno vedute e hanno odiato e me e il padre mio ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge mi hanno odiato senza cagione ma quando sarà venuto il consolatore che io vi manderò da parte del padre lo spirito della verità che procede dal padre egli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati meco fino da principio capitolo 16 io vi ho dette queste cose affinché non siate scandalizzati vi espelleranno dalle sinagoge anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di offrire servizio a Dio e questo faranno perché non hanno conosciuto né il padre né me ma io ho dette queste cose affinché quando sia giunta l'ora in cui avverranno vi ricordiate che ve le ho dette non ve le dissi da principio perché ero con voi ma ora me ne vò a colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai invece perché vò dette queste cose la tristezza vi ha riempito il cuore pure io vi dico la verità e egli vi è utile che io me ne vata perché se non me ne vò non verrà a voi il consolatore ma se me ne vò io ve lo manderò e quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato alla giustizia e al giudizio quanto al peccato perché non credono in me quanto alla giustizia perché me ne vò al padre e non mi vedrete più quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato molte cose ho ancora da dirvi ma non sono per ora alla vostra portata ma quando sia venuto lui lo spirito della verità egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose avvenire egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà tutte le cose che ha il padre sono mie per questo detto che prenderà del mio e ve le annunzierà fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete perché me ne vo al padre allora alcuni dei suoi discepoli dissero loro che cos'è questo che ci dice fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete e perché me ne vo al padre dicevano dunque che cos'è questo fra poco che gli dice noi non sappiamo quello che egli voglia dire Gesù conobbe che lo volevano interrogare e disse loro vi domandate voi l'un l'altro che significhi quel mio dire fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete in verità in verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà voi sarete contristati ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia la donna quando partorisce è in dolore perché è venuta la sua ora ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per l'allegrezza che sia nata al mondo una creatura umana e così anche voi siete ora nel dolore ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi torrà la vostra allegrezza e in quel giorno non rivolgerete a me alcuna domanda in verità in verità vi dico che quello che chiederete al padre egli ve lo darà nel nome mio fino ad ora non avete chiesto nulla nel nome mio chiedete e riceverete affinché la vostra allegrezza sia completa queste cose v'ho dette in similitudini d'ora viene che non vi parlerò più in similitudini ma apertamente vi farò conoscere il padre in quel giorno chiederete il mio nome e non vi dico che io pregherò il padre per voi poiché il padre stesso vi ama perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da dio sono proceduto dal padre e sono venuto nel mondo ora lascio il mondo e torno al padre i suoi discepoli gli dissero ecco adesso tu parli apertamente e non usi similitudine ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che alcuno ti interrughi perciò crediamo che sei proceduto da dio gesù rispose loro adesso credete ecco l'ora viene anzi è venuta che sarete dispersi ciascuno dal canto suo e mi lascerete solo ma io non sono solo perché il padre è con me votete queste cose affinché abbiate pace in me nel mondo avrete tribolazione ma fatevi animo io ho vinto il mondo capitolo 17 queste cose disse Gesù poi levati gli occhi al cielo disse padre l'ora è venuta glorifica il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te poiché gli hai dato podestà sopra ogni carne onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato e questa è la vita eterna che conoscano te il solo vero dio e colui che tu hai mandato Gesù cristo io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare ed ora o padre glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo erano tuoi e tu mi le hai dati ed essi hanno osservato la tua parola ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevuto e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato io prego per loro non prego per il mondo ma per quelli che tu mi hai dato perché sono tuoi e tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie e io sono glorificato in loro e io non sono più nel mondo ma essi sono nel mondo e io vengo a te padre santo conservali nel tuo nome essi che tu mi hai dati affinché siano uno come noi mentre io ero con loro io li conservavo nel tuo nome quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito tranne il figliolo di perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia allegrezza io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo io non ti prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo santificali nella verità la tua parola è verità come tu hai mandato me nel mondo anch'io ho mandato loro nel mondo e per loro io santifico me stesso affinché anche essi siano santificati in verità io non prego soltanto per questi ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola che siano tutti uno che come tu oh padre sei in me e io sono in te anch'essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato e io ho dato loro la gloria che tu hai data a me affinché siano uno come noi siamo uno io in loro e tu in me a ciò che siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me padre io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati affinché veggano la mia gloria che tu mi hai data poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo padre giusto il mondo non t'ha conosciuto ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato e io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro capitolo diciotto dette queste cose Gesù uscì con i suoi discepoli di là dal torrente Kedron dove era un orto nel quale egli entrò con i suoi discepoli ora Giuda che lo tradiva conosceva anche egli quel luogo perché Gesù si era molte volte ritrovato là con i suoi discepoli Giuda dunque presa la corte e delle guardie mandate dai capi sacerdoti e dai farisei venne là con lanterne e torce ed armi onde Gesù ben sapendo tutto quello che stava per accadergli uscì e chiese loro chi cercate gli risposero Gesù in Nazareno Gesù disse loro sono io e Giuda che lo tradiva era anche egli là con loro come dunque ebbe detto loro sono io indietreggiarono e cadono in terra egli dunque domandò loro di nuovo chi cercate ed essi dissero Gesù in Nazareno Gesù rispose v'ho detto che sono io se dunque cercate me lasciate andare questi e ciò affinché s'adempisse la parola che gli aveva detta di quelli che tu mi hai dato non ne ho perduto alcuno allora Simone Pietro che aveva una spada la trasse e percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro quel servo aveva nome Malco per il che Gesù disse a Pietro rimetti la spada nel fodero non berrò io il calice che il padre mi ha dato la corte dunque e il tribuno e le guardie dei giudei ripresero Gesù e lo legarono e lo menarono prima da Anna perché era suocero di Caiafa il quale era sommo sacerdote di quell'anno ora Caiafa era quello che aveva consigliato ai giudei essere cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo ora Simone Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nella corte del sommo sacerdote ma Pietro stava di fuori alla porta allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì parlò con la portinaia e fece entrare Pietro la serva portinaia dunque disse a Pietro non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo egli disse non lo sono ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano lì a scaldarsi ed anche Pietro stava con loro e si scaldava il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina Gesù gli disse io ho parlato apertamente al mondo ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio dove tutti i giudei si radunano e non ho detto nulla in segreto perché mi interroghi domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro ecco essi sanno le cose che ho detto e come ebbe detto questo una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù dicendo così rispondi tu al sommo sacerdote Gesù gli disse se ho parlato male dimostra il male che ho detto ma se ho parlato bene perché mi percuoti quindi Anna lo mandò legato a caiafa sommo sacerdote ora Simon Pietro stava quivi a scaldarsi e gli dissero non sei anche tu dei suoi discepoli egli lo negò e disse non lo sono uno dei servi del sommo sacerdote parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio disse non t'ho io visto nell'orto con lui e Pietro da capo lo negò e subito il gallo cantò poi da caiafa menarro Gesù nel pretorio era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua Pilato dunque uscì fuori verso di loro e domandò quale accusa portate contro quest'uomo essi risposero e gli dissero se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo dato nelle mani Pilato quindi disse loro pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge i giudei gli dissero a noi non è lecito fare morire alcuno e ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta significando di quale morte doveva morire Pilato dunque rientrò nel pretorio chiamò Gesù e gli disse sei tu il re dei giudei Gesù gli rispose dici tu questo di tuo oppure altri te lo hanno detto di me Pilato gli rispose sono io forse giudeo la tua nazione e i capi sacerdoti t'hanno messo nelle mie mani che hai fatto Gesù rispose il mio regno non è di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in mano dei giudei ma ora il mio regno non è di qui allora Pilato gli disse ma dunque sei tu re Gesù rispose tu lo dici io sono re io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo per testimoniare della verità chiunque è per la verità ascolta la mia voce Pilato gli disse che cos'è verità e detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro io non trovo alcuna colpa in lui ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua volete dunque che vi liberi il re dei giudei allora gridarono di nuovo non costui ma Barabba ora Barabba era un ladrone capitolo 19 allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare e i soldati intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo e li misero addosso un manto di porpora e si accostavano a lui e dicevano salve re dei giudei e gli davano degli schiaffi Pilato uscì di nuovo e disse loro ecco velo meno fuori affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora e Pilato disse loro ecco l'uomo come dunque i capi sacerdoti e le guardie l'ebbero veduto gridarono crocifiggilo crocifiggilo Pilato disse loro prendetelo voi e crocifiggetelo perché io non trovo in lui alcuna colpa i giudei gli risposero noi abbiamo una legge e secondo questa legge egli deve morire perché egli si è fatto figliolo di dio quando Pilato ebbe udita questa parola temette maggiormente e rientrato nel pretorio disse a Gesù donde sei tu ma Gesù non gli diede alcuna risposta allora Pilato gli disse non mi parli non sai che ho potestà di liberarti e potestà di crocifiggerti Gesù gli rispose tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da alto perciò chi m'ha dato nelle tue mani ha maggior colpa da quel momento Pilato cercava di liberarlo ma i giudei gridavano dicendo se liberi costui non sei amico di Cesare chiunque si farre si oppone a Cesare Pilato dunque rite queste parole menò fuori Gesù e si assise in tribunale nel luogo detto lastrico e in ebraico gabbatà era la preparazione della Pasqua ed era circa l'ora sesta ed egli disse ai giudei ecco il vostro re allora essi gridarono toglilo toglilo di mezzo crocifiggilo Pilato disse loro crocifiggerò io il vostro re i capi sacerdoti risposero noi non abbiamo altro re che Cesare allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso presero dunque Gesù ed egli portando la sua croce venne al luogo detto del teschio che in ebraico si chiama Golgota dove lo crocifissero assieme a due altri uno di qua l'altro di là e Gesù nel mezzo e Pilato fece pure una iscrizione e la pose sulla croce e vera scritto Gesù il Nazareno il re dei giudei molti dunque dei giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e l'iscrizione era in ebraico in latino e in greco perciò i capi sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato non scrivere il re dei giudei ma che egli ha detto io sono il re dei giudei Pilato rispose quello che ho scritto ho scritto i soldati dunque quando ebbero crocifisso Gesù presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una parte per ciascun soldato e la tunica ora la tunica era senza cuciture tessuta per intero dall'alto in basso dissero dunque tra loro non la stracciamo ma tiriamola a sorte a chi tocchi affinché si adempisse la scrittura che dice hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato la sorte sulla mia tunica questo dunque fecero i soldati ora presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre Maria moglie di Cleopa e Maria Maddalena Gesù dunque vedendo sua madre e presso a lei il discepolo che egli amava disse a sua madre donna ecco il tuo figlio poi disse al discepolo ecco tua madre e da quel momento il discepolo la prese in casa sua dopo questo Gesù sapendo che ogni cosa era già compiuta affinché la scrittura fosse adempiuta disse ho sete vera qui vi un vaso pieno d'aceto i soldati dunque posta in cima a un ramo di sopo una spugna piena di aceto gliela accostarono alla bocca e quando Gesù ebbe preso l'aceto disse è compiuto e chinato il capo rese lo spirito allora i giudei perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era un grande giorno chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via i soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui ma venuti a Gesù come lo videro già morto non gli fiaccarono le gambe ma uno dei soldati gli furò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua e colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è verace ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura nessun osso adesso sarà fiaccato e anche un'altra scrittura dice volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea che era discepolo di Gesù ma occulto per timore dei Giudei chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù e Nicodemo che da prima era venuto a Gesù di notte venne anche egli portando una mistura di mirra ed aloe di circa cento libri essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in pannilini con gli aromi com'è usanza di seppellire presso i Giudei ora nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto e in quell'orto un sepolcro nuovo dove nessuno era ancora stato posto qui vi dunque posero Gesù a motivo della preparazione dei Giudei perché il sepolcro era vicino capitolo 20 ora il primo giorno della settimana la mattina per tempo mentre era ancora buio Maria Maddalena venne al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro allora corse e venne da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono e si avviarono al sepolcro correvano ambedue assieme ma l'altro discepolo corse innanzi più presto di Pietro e giunse primo al sepolcro e chinatosi vide i pannilini giacenti ma non entrò giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide i pannilini giacenti e il sudario che era stato sul capo di Gesù non giacente coi pannilini ma rivoltato in un luogo a parte allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto primo al sepolcro e vide e credette perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti i discepoli dunque se ne tornarono a casa ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere e mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco seduti uno a capo e l'altro ai piedi là dove era giaciuto il corpo di Gesù ed essi le dissero donna perché piangi e la disse loro perché han tolto il mio signore e non so dove l'abbiano posto detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi ma non sapeva che era Gesù Gesù le disse donna perché piangi chi cerchi ella pensando che fosse l'ortolano gli disse signore se tu l'hai portato via dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò Gesù le disse Maria e la rivoltasi gli disse in ebraico rabbuni che vuol dire maestro Gesù le disse non mi toccare perché non sono ancora salito al padre ma vada ai miei fratelli e di loro io salgo al padre mio e padre vostro all'idio mio e idio vostro Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva veduto il signore e che egli le aveva dette queste cose ora la sera di quello stesso giorno che era il primo della settimana ed essendo per timore dei ciudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli Gesù venne e si presentò quivi in mezzo e disse loro pace a voi e detto questo mostrò loro le mani ed il costato i discepoli dunque come ebbero veduto il signore si rallegrarono allora Gesù disse loro di nuovo pace a voi come il padre mi ha mandato anch'io mando voi e detto questo soffiò su loro e disse ricevete lo spirito santo a chi rimetterete i peccati saranno rimessi a chi li riterrete saranno ritenuti ora toma detto didimo uno dei dodici non era con loro quando venne Gesù gli altri discepoli dunque gli dissero abbiamo veduto il signore ma egli disse loro se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato io non crederò e otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e toma era con loro venne Gesù a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi poi disse a toma porgi qua il dito e vedi le mie mani e porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente toma gli rispose disse signore mio e dio mio Gesù gli disse perché mi hai veduto tu hai creduto beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo il figliuolo di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome capitolo 21 dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera Simone Pietro Toma detto Didimo Natanaele di Cana di Galilea i figliuoli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme Simon Pietro disse loro io vado a pescare essi gli dissero anche noi veniamo con te uscirono e montarono nella barca e quella notte non presero nulla ora essendo già mattina Gesù si presentò sulla riva i discepoli però non sapevano che fosse Gesù allora Gesù disse loro figliuoli avete voi del pesce essi gli risposero no ed egli disse loro gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il grande numero di pesci allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il signore e Simon Pietro udito che era il signore si cinse il camiciotto perché era nudo e si gettò nel mare ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra circa due cento cubiti traendo la rete coi pesci come dunque furono smontati a terra videro quivi della brace e del pesce messo visù e del pane Gesù disse loro portate qua dei pesci che avete presi ora Simon Pietro quindi montò nella barca e tirò a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci e e benché ce ne fossero tanti la rete non si strappò Gesù disse loro venite a fare colazione e nessuno dei discepoli ardiva domandargli chi sei sapendo che era il signore Gesù venne e prese il pane e lo diede loro e il pesce similmente questa era già la terza volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti ora quando ebbero fatto colazione Gesù disse a Simon Pietro Simone di Giovanni mi ami tu più di questi e gli rispose sì signore tu sai che io ti amo Gesù gli disse pasci i miei agnelli gli disse di nuovo una seconda volta Simone di Giovanni mi ami tu e gli rispose sì signore tu sai che io ti amo Gesù gli disse pastura le mie pecorelle gli disse per la terza volta Simone di Giovanni mi ami tu Pietro fu attristato che gli avesse detto per la terza volta mi ami tu e gli rispose signore tu sai ogni cosa tu conosci che io ti amo Gesù gli disse pasci le mie pecore in verità in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti ora disse questo per significare con quale morte egli glorificherebbe il dio e dopo avere così parlato gli disse seguimi pietro voltatosi vide venirgli dietro il discepolo che gesù amava quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di gesù e aveva detto signore chi è chi ti tradisce pietro dunque veduto lo disse a gesù signore e di lui che sarà gesù gli rispose se voglio che rimanga finché io venga che ti importa tu seguimi ondè che si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non morrebbe gesù però non gli aveva detto che non morrebbe ma se voglio che rimanga finché io venga che ti importa questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace ora vi sono ancora molte altre cose che gesù ha fatte le quali se si scrivessero ad una ad una credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero